E' il momento anche di presentare l'iniziativo di Corotena e Litta E' il momento di presentare l'iniziativo di Corotena e Litta E' il momento di presentare l'iniziativo di Corotena e Litta Buon mattine, Gianni Marzo, per gli ammairo, Salto Grisio e Camilla, posta grande Il pubblico potrà sostenere Litta, regandosi i banchetti e vestiti E' la sostenere Litta e giocare in corsia, anche solo per una piccola offerta Un peluccio per una Litta, grazie ancora alla Corotena Per tutti coloro che corrono, bene e bello supporto per Litta E andiamo a presentare anche gli ammiti di questo incontro Iniziamo il primo ammigo del sostenere Rapizzano di Galico Uppine Il secondo ammigo del sostenere Ducca di Grupa Rava Iniziamo il primo ammigo del sostenere Rapizzano di Galico Uppine E ora andiamo a presentare gli starting six di questo incontro Iniziamo da un ammigo di Gusto Arsizio Gusto Arsizio, schiena per il numero due, Petri Castupi Per il numero due, Quindi io vi ricordo che il nostro progetto che ha spettato il marco per la trasferta del 19 a Modena, vi ricordo più di 19 che potesse seguire la giornata a me, la mancanza è prevista per le ore 13, ma è stata la quinta settimana, e poi voglio venire prima, la quinta settimana, perché sono nuovo, perché dovessi seguire, la scuola lì, la scuola è stata la quinta settimana, la quinta settimana, la quinta settimana, la quinta settimana, 17 e 30, ma qui è già un po' di ritorni a fianco delle nostre ragazze, facciamo un grande applauso per le nostre campene, e con i piedi, con i piedi, sono le nostre campene! Grazie! Grazie. 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 Grazie.